La finalità oggi che sentiamo forte è quella di avere delle luci che soprattutto accompagnano la musica per aumentare l'effetto fisico che la musica possa fare in chi ci segue, in chi in quel momento sta ballando. Poi in particolar modo la musica elettronica, l'elettronica che negli ultimi anni penso sia esplosa forse anche più di prima, non so tu che ne pensi. E' bellissimo, perché con le nuove tecnologie oggi chiunque può fare un proprio progetto e quindi assistiamo proprio... Già il campionatore negli anni 90 aveva segnato una grande svolta per cui il DJ, il non musicista, poteva diventare un fantastico musicista facendo delle produzioni originali e oggi ancora di più col computer, con le possibilità di questi nuovi programmi ci sono un sacco di ragazzini che magari non sanno le note ma hanno un gusto musicale fantastico e quindi davvero l'elettronica diventa un mezzo per poter esprimere queste emozioni profonde, questi disegni che magari uno ha dentro senza grande accademia. In relazione a questo, in una qualche maniera il fatto che comunque la possibilità di fare musica, di produrla, di metterla su internet ha aumentato moltissimo il ricircolo della musica, forse non c'è un'eccessiva ridondanza di musica, di possibilità, di scelta in maniera tale che chi comunque si avvicina inizialmente alla musica si trova di fronte ad una scelta estremamente vasta di pezzi e non riesce più ad avere una capacità discriminativa che poteva essere quella che c'era dieci anni fa cioè tu come la veri sotto questo punto di vista? È un male? È un bene? Io sono un sostenitore della complessità quindi per me là dove non c'è complessità c'è scelta limitata vuol dire che c'è qualcuno che sceglie per te e quindi preferisco scegliere da me quindi proprio vivendo un sistema di confusione piuttosto che vivere in un sistema di rassicurazione dove c'è però qualcun altro che sceglie per me quindi devo dirti che non lo vedo come un problema anzi lo vedo come un'enorme grande opportunità nello stesso tempo ammetto che anch'io vivo dei fortissimi momenti di sconforto perché non so bene dove andare a parare la cosa che trovo molto interessante è quella di fidarmi di altre persone e quindi di parlare di musica con altre persone anche con persone che sono distanti ormai ho un'età anagrafica sono quarantenne, ci sono dei ventenni che hanno degli altri gusti e quindi il fatto che ogni tanto mi segnalino questo, questo e quell'altro per me diventa proprio un modo per andare a scoprire e a sentire nuove sonorità quindi come dire, preferisco così, preferisco la complessità e il fatto che ciascuno di noi si possa attivare per ridurre da sé questa complessità piuttosto che ci sia qualcun altro che te la riduca perché se tu vedi i talent show, quelle robe lì, capisci che questo è un fantastico sistema per ridurre la complessità per omologale e alla fine però perdi la... nello stesso tempo, non so, forse è una visione anche la mia limitata, forse così diretta però il fatto che da una parte abbiamo il talent show, dall'altra abbiamo invece la vastità delle case produttrici indipendenti per esempio anche parlavamo oggi con i ragazzi in redazione del MEI che era un trampolino di lancio, diciamo comunque un punto fondamentale per queste case produttrici il fatto che quest'anno sia per esempio stata presente la Mara Maglionchi ha suscitato qualche polemica perché comunque si è passate via via da una indipendenza che poi invece non è una dipendenza veramente reale queste sono state alcune delle critiche che mi è parso di aver sentito quindi non so se c'è stato uno spostamento cioè nel senso tutti sono voluti andare in una direzione che fosse quella opposta alle grandi major e si sono ritrovati tutti dall'altra parte e meno dall'altra parte le major non so se mi sono spiegato sì, cioè che le major adesso giochino a fare gli indipendenti in sostanza ma le major hanno sempre cercato di fare indipendenti perché come ben sapete ogni major aveva una sua etichetta indie ma da sempre l'idea secondo me che fa un po' la differenza più che altro è l'approccio, lo spirito cioè proprio il fatto di io dico che cos'è che differenzia un gruppo da talent show rispetto a un gruppo indie è il fatto che il gruppo indie ha un progetto quello del talent show di solito non ce l'ha o almeno se ce l'ha entra in un meccanismo dove poco alla volta glielo spengono e gliene mettono addosso un altro e questo secondo me spiega a volte il fatto che tranne alcuni casi davvero assisti ad artisti che poi crescono, evolvono di solito finiscono lì un po' come era il Sanremo di qualche anno fa era quello l'alternativa cioè era il prototipo del talent show di oggi e invece ci sono un sacco di gruppi che hanno dei loro progetti e hanno una loro progettualità musicale cioè delle idee, hanno dei percorsi, fanno delle scelte sono disponibili anche a a lavorare con altri budget ma con l'idea proprio di portare la loro musica di di far evolvere e soprattutto di durare va bene allora intanto ci avviciniamo intanto ci stiamo insomma ci avviciniamo verso a una conclusione e allora innanzitutto per concludere insomma l'intervista Motel Connection e l'estero come che rapporto c'è? innanzitutto c'è un rapporto di forte desiderio da parte di Motel Connection perché da sempre noi sentiamo che la nostra musica ha una materia cioè il fatto senso che abbiamo iniziato a cantare in inglese era proprio per renderla più esportabile per avere un dialogo più con l'estero oltre che con l'Italia e devo dire che quest'anno appunto le tappe che abbiamo fatto tipo Detroit, Parigi hanno confermato il fatto che noi possiamo andare all'estero cioè nel senso che abbiamo ricevuto degli ottimi feedback delle proposte e devo dire che noi stiamo evolvendo come progetto noi adesso spariremo a fine anno perché finiamo il nostro ciclo il ciclo di vita però c'è probabilmente la possibilità che noi rinasciamo da un'altra parte magari anche con altri personaggi e alcuni personaggi anche stranieri e quindi diciamo che l'estero è ben presente nelle nostre menti e questo Secret Concert ne dobbiamo parlare? il Secret Concert è stato svelato e quindi è un evento che abbiamo costruito così una sorta di concerto un po' improvvisato dell'ultimo minuto passando dal Motor Show di Bologna e quindi l'idea proprio di suonare così in un'operazione un po' street al volo in un contesto dove ci sarà un sacco di gente tanta gente appassionata di motori e quindi a questo aggiungere un po' del nostro suono provare anche ad interagire con un ambiente che non è proprio l'ambiente Motel Connection ma che può avere tutta una serie anche di ulteriori così join creative per noi bene concludiamo qui grazie mille a voi buon concerto questa sera e salutiamo tutti gli amici di Radiofonica grazie ancora a presto grazie a tutti Grazie a tutti.